Due arresti in carcere, dieci ai domiciliari e sigilli a beni sono i numeri della maxi operazione del comando provinciale della Guardia di Finanza di Pescara che ha sgominato un'associazione dedita ad una mega truffa ed evasione fiscale ai danni dello Stato e di alcuni istituti di credito. Numeri impressionanti per l'operazione conclusa nelle ultime ore dagli uomini del colonnello Francesco Mora. Nell'ambito dell'operazione sono infatti stati bloccati 284 conti correnti, 57 depositi e tre cassette di sicurezza, sequestrate quote di 56 società affidate in custodia giudiziale ad amministratori nominati dall'autorità giudiziaria. L'indagine è durata quasi tre anni, 70 le persone indagate a piede libero. Il complesso di operazioni criminali poste in essere dall'associazione che oggi è stata smantellata ha creato un grosso danno tra gli altri anche all'economia, cioè ha falsato le regole del mercato, ha spinto in molti casi fuori mercato gli operatori onesti e proprio l'attività poste in essere ha riportato le regole nel gioco, ha risanato l'economia. Il meccanismo frattolento era basato sul sistematico utilizzo e successivo svuotamento di società attraverso l'emissione e la notazione di fatture per operazioni inesistenti. Il provvedimento di natura cautelare che è stato emesso dall'autorità giudiziaria riguarda anche il sequestro per equivalente fino alla concorrenza di 97 milioni di euro. Ovviamente colpiti sono beni mobili e immobili, compresi 107 immobili.